Ah, idone mi chiamo! Eh, 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 scusate, io ho il tono della voce un po' forte, no? Perché noi siamo andati in montagna, no? Tanto lo sapete, un po' per quello. E un po' perché sono esaurito e perso sono! Sai perché? Perché me l'ha fatta venire mia madre, me l'ha fatta venire l'esaurimento. Stamattina mi è cascata dall'altalena, mi è cascata. Chissà, c'è 50 anni ormai, sta fiorina, nell'altalena mi va. Poi è grasa impaccata che pesa 150 kg, è alto un metro e venti dell'altalena. L'ha fatto un pezzo di cristo, ha volato giù per i monti, a un momento mi arriva l'adriatico. Dice, ahidi, ahidi, ti sorridono i monti, i monti quando l'ha vista si sono scartametrati, si sono! È rotolata giù, come una palina. Ha detto il dottore, la metteremo in trazione, sì, chissà, tu direi, è una palina, eh? In trazione. Guarda, voi perché ve la ricordate, sì, piccolina, tutta tenera, piccola, con un cuore così? Questa cippa è diventata un macello, è diventata, è diventata ninfone, è diventata, se le hai fatti tutti, tutti quei supereroi, tutti quelli dei cartoni animati, se le hai fatti tutti. Gli mancano quelli del libro della giungla, che hai fatto tante le bestie, e mancava altro. Allora, prima sei innamorata della torcia dei Fantastici Quattro, sei innamorata. Capirai, dopo tre giorni andavi in giro, come Tutankamel, con tutte le band, andavi in giro così, e gli ho detto, mamma, si sa che ti bruci. Dopo una settimana l'abbiamo dovuta ricoverare, a Cesena, ai grandi ustionati. E niente, ci è toccato andare giù tutti, dalle montagne, tutti. Allora io e il nonno con l'Alzheimer, che ha cent'anni, Clara con la rotura di coglioni, con la sedia a rotelle, e nebbia, il cane ormai imbalzamato, tocca portarle in braccio, la signorina Notemairo con la borosa, e cucucci, cibi, belle, pecorelli, le caprette che ti fanno ciao, sembravamo il circo di mare, sembravamo. Dopo sei stufata della torcia, sei messa con l'altro, quello che si slunga, dei Fantastici Quattro, dei Cosette. Poi lo facevo anche il comodo, stai a pranzo, e mi fa sensare, e stava che ne si slunga, e mi arriva a pensare. E ma è durata poco quella, si vede che non gli si slungava tutto tutto. Una settimana sarà durata. Dopo niente, sei stufata, sei messa con Goldrick, e madonna, che ricoglionita anche Goldrick. C'ha 60 anni, pureto c'ha l'Alzheimer, un macello, ma non pregato di tutta la maglia. L'amero tanti, boom, è partita la cucina, non governa le armi, capito? Alla bardo spaziale, boom, è partito tutto il tetto, un macello. Dopo sei stufata anche di Goldrick, sei messa con Hulk, anche a Hulk. Capirai, gli faceva una carrozzina, volava, giù per levagli, un macello. Dopo sei stufata di Hulk, sei messa con Shrek. Madonna, grezzo Shrek. una piappella, un macello, c'ha lo tirote, c'ha il pecere, punta, la signorina Rotembaia, è impazzita. Capirai, una sera eravamo a tavola, una mollata a una, c'è partita Clara con la cedera, boom, c'è uscita di casa, ma c'era la pista rossa, però in Adriatico la trovavamo. Adesso stava anche bene, c'era sto Cristo, foretta. Capirai, stava con Remy, una rottura di fuoco. Madonna, ancora Remy, anche lui, è senza famiglia.